Quali sono i BTP migliori per differenti livelli di scadenza? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Torniamo a parlare di titoli di Stato e andiamo a cercare di fare una cernita quelle che sono le obbligazioni di titoli di Stato italiani divisi per le scadenze, ognuno la sua, come si suol dire, che offrono un determinato tipo di rendimento e andiamo ad analizzare questi titoli di Stato, che cosa combinano, cosa fanno, soprattutto andiamo ad analizzare quelli che sono i rischi di questi titoli di Stato, cosa possiamo aspettarci magari anche nei prossimi anni, i livelli di rendimento attesi, se sono congruenti con quello che il mercato ci sta dando in questo momento, ha senso o non ha senso, tutte le elocubrazioni del caso e andiamo a sviscerare un elenco di titoli di Stato, BTP italiani per tutte le età, dal 5 anni, 10 anni eccetera, andiamo a vedere un po' che cosa ci propina lo Stato italiano e tutto quello che c'è dietro. Prima di andare avanti ragazzi iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto lasciatemi i pollicioni per questo tipo di video e tra le altre cose nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo tipo di contenuti che sono un po' fuori magari dalla nostra classico tematica cripto e investimenti in generale, però sono molto utili secondo me in questo frangente soprattutto perché con il livello dei tassi di interesse attualmente raggiunti dalla Banca Centrale Europea gli investimenti in titoli di Stato sono molto ghiotti per tantissimi risparmiatori italiani, tantissimi investitori italiani e quindi è corretto andarli anche a ragionare, li abbiamo tralasciati per decenni perché i tassi erano talmente bassi che in pratica era inutile utilizzarli, adesso stanno diventando nuovamente appetibili e bisogna fare una serie di considerazioni, cercare di imparare a ragionare cercando magari anche delle alternative agli investimenti speculativi che possono essere a diminuzione, messe insieme in un portafoglio per creare diminuzione di volatilità. I punti che tratteremo sono queste, analisi dello strumento e delle sue caratteristiche, i rendimenti che offre lo strumento e le caratteristiche di questi rendimenti, la liquidità se buona o sbagliata, ma di solito in titoli di Stato è tutta una liquidità che è fondamentalmente creata dalle banche, poi un'analisi del grafico per quanto riguarda l'andamento perché alcuni titoli di Stato che non sono stati emessi magari di recente possono avere degli andamenti che sono anche nel corso degli anni oscillanti ragazzi e questo ci dà anche un'informazione importante su come si è comportato il titolo di Stato. Terzo, quinto argomento, la duration, argomento importantissimo sul quale tra le altre cose ho fatto un reel e uno short YouTube di recente, ma molto importante per capire la rischiosità e cosa andiamo incontro acquistando questo titolo di Stato se l'inflazione non si ferma, perché poi è questo che dovete sempre ragionare, cioè quali sono i rischi anche negli strumenti a capitale garantito, tra virgolette, e a rendimento garantito, quello non è tra virgolette, ma il capitale è garantito solo se l'emittente non fallisce, ricordatevi, in questo caso lo Stato italiano e detto questo bisogna anche ricordare che ci sono rischi, in questo caso la duration ci indicherà il rischio, tasso di interesse, l'inflazione non scende, continua a salire, la Banca Centrale Europea deve salire ancora i tassi, come varierà il prezzo del vostro titolo di Stato in portafoglio, lo andiamo a vedere oggi. Iniziamo dal primo, il più corto se è così vogliamo dire, ma anche il più interessante perché farò anche un'analisi comparata di due titoli sostanzialmente, il BTP valore che è stato emesso pochissimi giorni fa a scadenza del 2028, cioè un titolo a 5 anni, sostanzialmente per quanto riguarda i titoli di Stato il BTP a 5 anni è definibile un BTP short term, so che parlare di short term a 5 anni sembra apocalittico, però in realtà per i BTP è così. È stato messo pochi giorni fa e lo andiamo a paragonare perché c'è la sua quotazione attuale circa alla pari quota 100,39 e vi ricordo ragazzi per chi non avesse informazione su cosa sono le obbligazioni, come si deve ragionare con le obbligazioni e vuole fare un corso sulle obbligazioni gratuito sulla mia testa, vi lascio il video che ho pubblicato qualche settimana fa che sta andando una bomba, lo trovate sulla mia testa e vi spiega appunto come si lavora con le obbligazioni, come si investe con le obbligazioni, sempre un video basic. Detto questo il BTP valore è stato emesso, qui abbiamo appunto ragazzi semplicemente in Borsa d'Italia, andiamo a cercare il titolo di Stato, intanto vi dico già che i titoli di Stato si vanno a cercare come tutte le obbligazioni utilizzando il codice ISIN, che è qui il codice ISIN, quindi voi andate a inserire questo codice online o anche presso la vostra banca e potete acquistare questo titolo, non sono così finanziari, sto solo dicendo come si fa, si utilizza il codice ISIN, è un codice univoco, quindi voi lo utilizzate e la vostra banca vi restituisce il titolo di Stato, dove si compra i titoli di Stato italiani? Presso le vostre banche, sui conti correnti, tutte le banche le hanno, meglio se magari sono banche volte all'attività di trading in generale e non le banche che magari hanno solo la carta eccetera, quindi parlo comunque di grandi gruppi bancari in Italia e poi li potete trovare anche su alcuni broker, in generale i broker internazionali sono Interactive Brokers e De Giro che fanno un po' queste cose, però per i BTP italiani meglio le banche italiane, quindi è sicuramente molto meglio. Detto questo, il codice di riferimento è questo qui, il BTP è stato emesso proprio pochi giorni fa, inizia la negoziazione il 10 di ottobre del 2023, è un quinquennale classico, è a tasso fisso perché all'interno della sua, scusate non è un tasso fisso questo qui, ma è un tasso variabile perché all'interno della sua struttura ha una cedola modificabile. Allora che cosa significa questa cosa? Spesso nelle obbligazioni vengono emesse dei titoli con cedola non fissa nel corso del tempo, cioè nella durata del contratto obbligazionario. Questo perché? Perché si vogliono creare delle sottostrutture per magari creare delle attività di marketing come, insomma, abbastanza evidente in questo caso e dare lo spazio alla, magari, emittente del titolo obbligazionario di far comprendere che comunque il tasso o la cedola dipende da un altro valore come può essere l'inflazione o addirittura sale nel tempo. Questo è infatti un titolo di stato step up dove la cedola in pratica sale nel tempo, vi faccio vedere anche la scheda tra poco e in pratica noi dobbiamo andare a fare poi un calcolo della valutazione di questo titolo di stato considerando che la cedola nel corso dei prossimi anni salirà. Ovviamente ragazzi qui quello che trovate, i valori che trovate sono già stati calcolati quindi in generale sono già corretti. Vi faccio vedere la scheda, ricordatevi sempre la scheda informativa è fondamentale. Quando andate ad analizzare un titolo di stato o un'obbligazione qualsiasi prendete il codice ISIN e trovatevi su internet la scheda informativa, la vostra banca ve lo darà. Quindi codice ISIN, scheda informativa e trovate le caratteristiche cedolari perché la struttura dell'obbligazione è fondamentale. Se non è tasto fisso dovete controllare la struttura del cedolo perché da quella dipende l'oscillazione del vostro titolo e potreste anche ritrovarvi con bruttissime sorprese se non siete abbezzi a queste cose e se non avete magari controllato queste cose qui. Allora, primi tre anni questo titolo da il 4,10, dopo il quarto e quinto anno, gli ultimi due da un 4,50, quindi step up leggerissimo in pratica. Cosa cambia in generale? Cambia che è un po' uno specchietto per lei all'odolo e per far comprendere che in realtà c'è un innalzamento della cedola, però sostanzialmente nel dato immediato non cambia granché ragazzi perché il tasto di rendimento si livellerà ai suoi simili, quindi hai il livello insomma dei tasto di interesse, dei titoli di stato simili. Allora, il rendimento che viene offerto, Forza Italiana ce lo calcola direttamente, l'ordo 4,21 a scadenza 3,67 netto, quindi come vedete non è un rendimento altissimo perché è un tasso a 5 anni, quindi questo qui è un titolo di stato a 5 anni, quindi è corto. Meno rischio, che vedremo tra poco con dato dalla duration, è anche meno rischio di magari inesigibilità rispetto a un 50 anni, perché magari il Stato Italiano per 50 anni se continuano in questo modo, vabbè non voglio aggiungere altro, aggiungetelo voi altro, aggiungetelo voi, non dico niente, scherzi a parte. Allora, detto questo potrebbe essere più rischioso ovviamente un tasso lungo e in questo caso ovviamente, tornando a pariteri, è più semplice magari pensare che lo short term sia più garantito, no? È più facile che venga restituito il capitale, è tutto qui. Allora, la questione è legata ai rendimenti e questa, andiamo a vedere un po' il grafico. Il grafico ha pochi movimenti perché è stato emesso pochi giorni fa, quindi andiamo a ragionare e come vedete c'è stato un atteggiamento che io già adesso vi dico, probabilmente continuerà, vi faccio vedere anche perché. È salito dopo l'emissione a 153, adesso sta un po' ritracciando, ma di pochissimi ragazzi, ovviamente non vi aspettate oscillazioni ampie nelle obbligazioni, sono comunque oscillazioni contenute nel punto percentuale, quindi di questo parliamo, però tendenzialmente questa forma probabilmente di tasso di rendimento è un po' bassino. Andiamo a vedere anche la questione della duration, la duration modificata ci dice 4,34, ho spiegato in un reel che la duration in pratica, ragazzi, che cos'è? È sostanzialmente la, anzi facciamo così, vi faccio vedere la spiegazione proprio di Borta Italiana che vi dice perfettamente quello che è la duration e vi dà una spiegazione. È la durata finanziaria di un titolo, è una misura ampiamente utilizzata dai mercati, bla bla bla, per valutare l'investimento e i rischi connessi e viene considerata come una misura della volatilità. A noi è espressa, a noi ci interessa questo, ci interesserà questo per valutare la rischiosità, la durata in pratica è il tempo necessario affinché il titolo di Stato ripaghi il nostro capitale, concedere il capitale investito. In pratica come si usa la duration, ragazzi, ho fatto lo short proprio poco tempo fa, la duration indica come varia il titolo di Stato, il prezzo del titolo di Stato al variare del tasso di interesse. Questo a noi ci interessa poi fondamentalmente al di là del calcolo matematico. Se il tasso di interesse della Banca Centrale Europea sale di un punto percentuale, questo titolo che noi abbiamo preso in considerazione, 9 ottobre 2028 scenderà del 4,34%. Questo è quello che ci dice la duration. Poi giù di lì, ragazzi, perché ci sono altri fattori, perché se aumenta il rendimento non della BCE, ma aumenta la rischiosità dell'Italia rispetto al risk free e quindi lo spread in pratica con il Bund tedesco, questi titoli devono rendere di più, anche in quel caso il prezzo scenderà. Quindi sostanzialmente bisogna ricordarsi anche queste cose, un aumento, quindi lo spread impone anche una riduzione del prezzo di questo titolo. Quindi o sta nel tasto di interesse o si riduce lo spread, diciamo, ci dà una virtura della rischiosità. Più alta la duration, peggio è. In questo caso la duration è 4,34%, quindi il titolo è un pochino rischioso, diciamo, ecco, diciamo così, non tanto rischioso perché la duration è bassa, quindi anche un sbalzo del tasto di interesse dello spread ha un impatto minimo, 4 punti insomma in generale, per ogni punto percentuale, quindi non è importantissimo. Vi faccio vedere però un simile per capire se è quotato bene questo titolo. Allora, noi abbiamo un suo simile che però scade un po' prima, scade ad aprile 2028 ed è un tasso fisso classico con una cedola al 3,4 e poi un capitale che verrà restituito a 100. Quindi qui avrò una cedola al 3,4, qui lì la cedola su BTP valore è a 4,1, però qui pago di meno il BTP e quindi alla fine avrò anche un rendimento dal sovrapprezzo del titolo che salirà a 100, quindi lo pagherò di meno. Intanto ci interessano le oscillazioni e quello che sta facendo sono le oscillazioni di base. Oscilla fra 100 e 96 e vi fa anche capire un'altra cosa, 97, che in pratica in questa fase c'è stato un trend ribassista dei titoli di Stato italiani così come anche quello a livello internazionale, cioè i titoli di Stato sono scelti e i rendimenti sono saliti perché ci si aspetta che a livello di inflazione sia persistente anche nel prossimo anno e che quindi i tassi di interesse saranno più alti anche il prossimo anno per più tempo. Questo ha creato una pressione di vendita sui titoli di Stato, ha fatto scendere i prezzi dei titoli di Stato, questo che a breve scadenza è sceso un po' di meno ma quelli a lunghi sono scesi un po' di più e in pratica c'è questo atteggiamento. Ciò significa anche che il BTP valore probabilmente dovrà livellarsi anche al livello di rendimento di questo titolo che già è stato emesso, che vi ripeto scade anche un po' prima, 384 contro 367. Ciò non è che ci serve lo 0,1 in più di rendimento ma ci serve per capire che probabilmente è ancora sovracquotato, dovrà scendere vicino a 100 o un pochino sotto questo titolo di Stato. Quindi a chi è adatto, chi vuole scadenze brevi, depositare cash che non gli servono in questo momento ma utilizzerà a brevissimo e vuole avere un rendimento che più o meno nel 2024 dovrebbe pareggiare l'inflazione. Ma non vi aspettate grandi cose, questo è il risultato. Passiamo invece a dei titoli di Stato che sono più a lunga scadenza per comprendere quelli che possono essere per esempio anche i rischi maggiori di scadenze più lunghe. Il secondo titolo che andiamo a vedere oggi ragazzi è il BTP a primo febbraio 2033, cioè il decennale. Ho preso un BTP che è una cedolona gigante. Questo perché? Perché a molti amano anche creare una rendita utilizzando i titoli di Stato e quindi non gli interessa il capitale a scadenza ma gli interessa magari percepire questa rendita nel corso della vita utile di questo titolo di Stato. Perciò questo è un BTP a scadenza febbraio 2033 quindi un decennale più o meno, un po' di meno di un decennale ed è un titolo che ha una cedola al 5,75. È un titolo anche questo a tasso fisso anche perché non abbiamo il tempo di andare a fare analisi strutturati anche perché diventa troppo complicato. Come vedete qui il tasso di interesse è maggiore rispetto al quinquennale e di un po' ragazzi circa 0,304 in più all'anno perché il titolo in questione ha una scadenza più lunga. Quindi scadenze più lunghe hanno tendenzialmente dei tassi di interesse più lunghi però non è sempre così perché è arrivato a un certo punto la curva in pratica si abbassa quindi sale il rendimento poi si ferma, diventa piatto e poi inizia a scendere. Per le scadenze lunghissime infatti a volte i rendimenti sono più bassi addirittura di quelli medi, di quelle scadenze medie. Questo perché? Perché nessuno vuole dare per lunghissimo tempo il diritto ad avere magari un rendimento troppo alto e quindi si dice no oltre questo non ti do e quindi scende addirittura perché te lo sto garantendo per 30 anni, 40 anni. Insomma ecco questi sono i concetti che stanno dietro. Allora qui abbiamo un tasto al 4,18 e sostanzialmente un cedolone gigantesco ragazzi. Cosa significa? Significa che il BTP è quotato a prezzo più alto della pari. Questo significa che ovvero incassiamo 5,75 però poi perdiamo il 6,85 ai prezzi attuali di oggi rispetto alla scadenza. Quando sarà scadenza ci rimborserà 100 e non 107, circa 106,85 quanto lo stiamo pagando. Quindi perdiamo da qui, incassiamo da qui. Però, 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 nei primi anni sostanzialmente quello a cui assisteremo è l'incazzo della cedola. Se però durante i prossimi anni noi assistiamo ad una stabilizzazione della questione inflazione e quindi una rilgera riduzione del tasso, è molto probabile che questo titolo di Stato non vada a scendere di prezzo ma addirittura si mantenga o a questi livelli o addirittura possa salire un pochino. Quindi potrebbe essere anche che non solo intaschiamo la cedola 5,75 ma questo prezzo non va a diminuire per uno o due anni se per esempio la Banca Centrale Europea decide di abbassare i tassi di interesse. E questo rende magari appetibile un po' le scadenze più lunghe in questo contesto. Ovviamente un decennale è una scadenza lunghissima, è una scadenza interessante anche perché la duration non è eccessiva, 6,98, 7%. Quindi rispetto al quinquennale che aveva un rendimento più basso ma soprattutto un effetto duration più stretto ma anche diciamo ovvio che sia così, in questo caso qui abbiamo un effetto duration più marcato che potremmo però sfruttare nel 2024-2025 se abbiamo intenzione di aspettare che magari la Banca Centrale Europea abbassi i tassi. Quindi se voi siete dell'idea che i tassi di interesse sono troppo alti e che nel 2025 inizieranno a scendere, questo titolo è più adatto perché semplicemente la duration vi dice che se il tasso scende di un punto percentuale questo titolo sale del 7%. Poi ovviamente deve scendere un pochino perché si riduce la scadenza, quindi ci vorranno anni, non è che li abbassa domani, però sostanzialmente è interessante questa cosa perché potrebbe farvi sfruttare appunto questo effetto duration. Vi faccio vedere una cosa che è da brividi, soltanto il valore di questo titolo qualche anno fa. Allora parliamo per farvi capire che cosa significa l'effetto tasso di interesse. 2020-2022 questa zona qui, gennaio, era quotato fra 145 e 157 questo titolo di Stato. Guardate il collasso completo che ha avuto per l'inalzamento dei tassi di interesse che sono stati di circa 4 punti facendogli perdere appunto il 40% circa di valore a questo titolo. Ragazzi, non proprio il 40%, un po' di meno perché come vi dicevo la duration è 7, quindi dobbiamo montarla per il numero dei punti, diciamo, percentuali che è stato alzato il tasso di interesse. Comunque lo vedete in maniera molto evidente la discesa. Questo significa che l'effetto duration potrebbe essere la Banca Centrale Europea continua ad aumentare i tassi anche nei prossimi anni perché l'inflazione è sotto controllo questo continua a scendere. Oppure la Banca Centrale dice che siamo arrivati, anzi diminuisce i tassi, potremmo assistere a una cosa del genere. Questa gambetta potrebbe essere interessante perché potrebbe darci spazio di incassare questa cedolona nei prossimi due anni e allo stesso tempo magari prendere qualcosina anche sul prezzo, andarlo a vendere a un prezzo più alto. Va bene? Sono sicuro che a molti di voi questo giochino della duration se la speculazione, diciamo, se la Banca Centrale Europea abbassa i tassi nei prossimi anni piaciuto. Ma se allora noi volessimo fare solo una speculazione, quindi tralasciando la questione del BTP diciamo come investimento prudenziale, ma lo vorremmo utilizzare solo per speculare in maniera abnorme su un eventuale ribasso dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, cosa potremmo fare? Potremmo cercare dei titoli di Stato italiani a duration lunghissima e ci sono ragazzi e questo è quello che vediamo, l'ultimo titolo che vediamo oggi. BTP a tasso fisso 2,15 marzo 2072. 50 anni, 48 anni a marzo prossimo, quindi incredibile. Vabbè, un titolo lunghissimo. Alcuni di voi diranno ma ci sarà l'Italia per 50? 50? Non lo so, magari non ci saremmo neanche noi. Però, allora, questo è un titolo che si può utilizzare come speculazione perché magari se voi siete dell'idea che la Banca Centrale Europea abbia raggiunto i massimi del tasso di interesse e debba obbligatoriamente magari nei prossimi anni scendere, avete fatto le vostre analisi a casa e volete speculare su questa cosa, prendere un titolo del genere che offre una duration altissima è importante. Intanto vi faccio vedere la rischiosità di un titolo del genere, il 2022 ha perso metà del suo valore, questo perché la duration appunto è molto ampia. Poi la cedola la dà, vi faccio vedere anche il rendimento, che come vedete il rendimento netto a scadenza non varia rispetto al decennale in maniera importante per un titolo che è lunghissimo, come vi dicevo prima. Questo sostanzialmente vi fa comprendere che se voi volete solo incassare un rendimento, avere un 50 anni non ha molto senso, ma se voi volete speculare sul fatto che i tasti sono molto alti, allora sì, però lì dovete fare i compiti a casa e sapere quello che state facendo perché è rischiosissima una cosa del genere ragazzi, quindi non sono consigli finanziari e approfonditeli in maniera importante, però è una cosa simpatica, quindi si potrebbe tranquillamente fare. Vi faccio vedere direttamente la duration del titolo, tanto ormai avete capito è un tasso fisto da cedole del 2 è qualcosa, duration ha 21 punti percentuali. Quindi se la banca centrale nei prossimi anni abbassa i tassi di interesse di 2 punti percentuali, questo titolo fa più 40%, sostanzialmente così, poi che fate? Lo vendete e incassate il cash. Ma attenzione, perché se la banca ha sbagliato e deve alzare ancora i tassi di interesse di un punto percentuale, questo titolo perde il 20% solo ad ogni punto percentuale che alza la banca centrale. Terribile. Quindi ricordatevi a quello a cui state andando incontro. Il prezzo ovviamente è 50, il rendimento è tutto calcolato sul prezzo, perché come vedete questo titolo raddoppierà perché ci darà 100 alla scadenza e in più per ogni anno ci darà anche una minicedola al 2,15. Quindi avremo sia la rendita del 2,15 sia il raddoppio del capitale a scadenza. Ovviamente bisogna però fare i conti con la questione che vi dicevo dell'inflazione. Se l'inflazione non è sotto controllo e qui stiamo sbagliando qualcosina, qui lo vediamo scendere ulteriormente e potrebbero essere veramente, diciamo, giornate a mare. Va bene, detto questo, ognuno per le sue tasche. Due titoli prudenziali, il decennale e il quinquennale, il decennale e un po' di meno e qui il cinquantennale, una cosa solo per amanti della iperspeculazione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e soprattutto lasciate un mi piace se vi sono piaciuti questi video e state facendo cose simili. State speculando su un titolo come il 2072? Mamma mia! Ciao ragazzi!